Continua a far parlare di sé il contenuto rinvenuto nella lattina martedì pomeriggio scorso ad Andrea e che ha costretto in pronto soccorso mamma e figlia che erano venute a contatto con il liquido contenuto. Ieri mattina infatti i tecnici del Sian dell'ASL BT hanno consegnato all'istituto zoo profilattico di Foggia i reperti sequestrati dalla polizia scientifica per le successive analisi di competenza. Da una prima analisi tuttavia è certo che la lattina della bevanda di una nota marca sia stata prodotta in Lussemburgo e quel lotto era destinato al mercato polacco e pertanto non doveva trovarsi in Italia. I tecnici del Sian ne hanno avuto conferma proprio dalla sede italiana della produttrice della bevanda. Questo secondo i tecnici rende molto difficile rintracciare il lotto per le ulteriori analisi che sarebbero servite ad accertare l'eventuale e contaminazione dell'intero lotto anche alla luce della rintracciabilità prevista dalle leggi nella filiera alimentare. Nel frattempo comunque mamma e figlia stanno bene e non vi sono stati più particolari problemi di salute. La situazione tuttavia resta monitorata dalle autorità sanitarie mentre sono in corso le indagini del commissariato di Andria.